Giovanni Allevi, compositore, direttore d'orchestra, pianista, filosofo e poi molte altre cose. Anima tormentata. Marito, padre, ambasciatore delle tue marche così belle e così ferite e mi riferisco al terremoto, scrittore, un fenomeno che si ama o non si ama come tutti i fenomeni eppure tu dici di te sei un'anima tormentata e apparentemente sei così fragile, così mite, alle volte sembri anche insicuro e invece così irrefrenabile nella fantasia. e nell'estro musicale. Grazie. Però io credo che ci sia una relazione tra il buio dell'anima e la ricerca della bellezza e della luce attraverso la musica. Se non fossi così tormentato probabilmente non avrei nulla da dire. E' vero che a casa non volevano che tu facessi il musicista e che sei dovuto scappare e andare a fare il cameriere a Milano per fare quello che credevi? In un certo senso li capisco i miei genitori che per tutta la vita mi hanno regalato l'ansia di quello che poteva essere il mondo della musica con le sue mille difficoltà e con la musica non trovi lavoro, con la musica non puoi farti una famiglia, la musica è difficile, è accortissimo. Si chiama verifica. Esatto, realismo. Allora quando poi a 28 anni sono andato via di casa perché effettivamente ero rimasto senza lavoro, effettivamente a Milano sono riuscito a trovare quasi immediatamente un impiego come cameriere nei catering. E intanto mi ero già lavorato in filosofia e stavo concludendo gli studi di composizione sempre al Conservatorio Verdi però in quel periodo bellissimo ricordo che finalmente potevo non fare niente. E tu avevi lavorato tanto perché eri un po' nerd da ragazzino, un po' chiuso così, un po' isolato, ti dicevano già che eri un tipo strano sicuro. Sì, anche perché la musica è un grande collante soprattutto in quella fascia d'età, in quel periodo. I ragazzi trovano nella musica un canale di comunicazione reciproco e chiaramente nei confronti dei miei coetanei c'era questa difficoltà. Ossia io ero un fanatico di Beethoven, di Chopin, di Rachmaninoff e quando semplicemente pronunciavo questi nomi venivo immediatamente ghettizzato e così. Però cosa avete in comune allora tu e uno come Lorenzo Giovannotti che è il tuo coetaneo e con cui sei amico da ragazzino e con cui peraltro hai cominciato a lavorare? Io sono andato a lavorare nella band di Giovannotti esattamente il giorno dopo che mi ero diplomato in composizione al Conservatorio Verdi di Milano. Alla fine di un percorso accademico, sperimentale, purissimo, io ho avuto questa possibilità di finire nell'ombelico del mondo, di trovare grazie a Lorenzo un contatto profondo con il mondo giovanile. Di cui facevi parte. Di cui facevi, non ricordavo più di far parte. Di cui non ricordavi di far parte. E chi lo sa, probabilmente la mia musica classica, contemporanea, rigorosamente strutturata nelle forme classiche ma contemporanea e ritmica nei contenuti, oggi è una conseguenza di questo incontro tra mondi apparentemente distanti. Che però non era programmata la sperimentazione e la contaminazione, è venuta da un rapporto, da un'amicizia. Sì, ma quella poi è venuta dopo, è venuta molto dopo. Cioè io dopo aver vissuto in un mondo, dopo essere stato catapultato in un altro, poi alla fine mi sono dovuto isolare di nuovo e pensare a una nuova strada possibile per la musica classica. Giovanni Ellevi, Cavaliere della Repubblica, hai suonato in Vaticano, hai suonato in Senato, hai diretto un'orchestra che ci ha regalato l'inno d'Italia, che chiudeva le trasmissioni radiofoniche notturne. Hai composto un inno per la serie A di calcio. Allora, hai lavorato per la pubblicità e che pubblicità? Sono cose che in qualche modo si pagano? No. Ti cito Guccini, voi critici, voi personaggi austeri, militanti, severi, chiedo scusa, possia, potresti aver reagito così alle critiche che sono arrivate? No. A proposito delle contaminazioni, invece tu ci sei rimasto male, dici. Allora, no, ci sono rimasto male non tanto per la critica in sé, perché è giusto, è giusto. Cioè, deve esserci una libertà di pensiero. Io sono cresciuto in un ambiente filosofico per cui è importante che ci sia un altro che la pensa diversamente da te. Il problema è che al posto di attaccare la mia musica hanno attaccato la persona. Un po' più subdolo questo. Ci sono rimasto male, l'ho superata e oggi dico, ma no, ma no, va bene così. Oggi non ti importa più? No, no. Allora, calma. Probabilmente è una ferita che non si rimarginirà mai. Ma non a caso ti citavo Guccini, perché lui rideva e replicava con lo sberleffo. Non a tutti è dato. Non a tutti è dato questa capacità. Io sono una persona molto riflessiva, amo il silenzio, amo stare da sola. E non le polemiche? No. Tu hai esasperato a un certo punto dei tratti del tuo carattere, della tua persona, che forse avevi già fin da piccolo. Penso all'ansia, no? Anche a certe paure, a certe chiusure. E poi è successo qualcosa. Nella vita c'è sempre un accadimento che ci cambia e non è mai a caso, no? E si può dire che ci si perde per ritrovarsi, si passa attraverso anche il dolore per diventare nuovi. Cosa è successo? Sono successe tante cose e continuano a succedere. Continuano a succedere tante cose. È successo che io, fondamentalmente, da esecutore, da interprete di musica classica, così come ho iniziato ad essere, ho scritto la mia musica, che per anni avevo tenuto in un cassetto. Ho iniziato ad eseguirla in concerto e si è creato un legame magico, profondo, profondissimo con il pubblico, che neanche io mi sarei aspettato. E quindi dopo 15 anni che facevo concerti davanti a un pubblico di 30-40 persone al massimo, un giorno ho alzato la testa e c'era la folla. E non solo in Italia. Sì, infatti il primo teatro pieno, completamente pieno di gente, lo visto a Shanghai, all'Oriental Arts Center. Che strano, che strano. Direi quasi che bello, ma che strano. Cioè, è vero che se insiegui un sogno con tutta la passione, prima o poi l'universo trama in tuo favore qualcosa sia. Io prima facevo cenno a qualcosa che tu racconti, e poi ne parliamo, però prima di far vedere il titolo bisogna arrivarci con calma, c'è stato un dolore, una ferita grande a livello di salute e poi c'è stata la ricerca di un isolamento. Queste cose ti hanno cambiato di più nel passato più recente. Ah, ecco, questo è successo da poco. Ah, sì, però lì mi sento un eroe. Allora, io mi trovavo in Giappone, stavo facendo l'ultima data di un tour, il concerto per pianoforte era un concerto per pianoforte solo e a metà del concerto ho avuto un distacco di retina nell'occhio sinistro. In sostanza, vedi una tenda nera che invade il tuo campo visivo. Paura. Allora, più che altro consapevolezza, perché avevo già avuto dieci anni fa lo stesso problema nell'altro occhio, quindi sapevo esattamente cosa stava accadendo. Sapevo che bisognava immediatamente fermare il concerto, immediatamente farsi ricoverare, perché il distacco di retina prima lo operi e meno fa danni. E invece io ho portato a termine il concerto. C'era il pubblico che mi aspettava per gli autografi, per le dediche, sono rimasto con il pubblico. Poi si era fatto troppo tardi, chiaramente non c'era nessun ospedale che mi poteva ricoverare, ho aspettato il giorno dopo. Il giorno dopo sono stato operato, d'urgenza, così. E oggi ho un restringimento obiettivo, oggettivo e permanente del campo visivo, dovuto probabilmente a questa mia avventatezza. Non lo so, io mi sento un eroe. Allora, io credo di aver dato la musica tantissimo a questo punto. E allora è come se mi sentissi al riparo. Io so che un giorno la musica mi... Tornerà tutta indietro. Sì, mi ricompenserà per questo gesto eroico. Da cavaliere, da cavaliere. La malattia agli occhi e poi la ricerca della solitudine. Perché? Eri troppo... Il successo ti aveva in qualche modo spaventato, ti sentivi schiacciato. Tu parli spesso del fastidio per il troppo rumore. Più che fastidio è un disagio, no? Esatto. Non voglio parlare... Non voglio pensare che sia il Giovanni Allevi che ha avuto successo, allora ha bisogno di isolamento. Diciamo che io, probabilmente, essendo una persona molto sensibile, come una spugna, vivo amplificate le inquietudine, le ansie dei ragazzi di oggi, di tutte le persone. Allora qual è il problema oggi? Che questo eccesso di socializzazione attraverso internet pone tutti quanti noi sotto la lente di ingrandimento di tutti gli altri, ci espone tutti quanti continuamente al giudizio e se ne è andata via la serenità, se ne è andata via la possibilità di sbagliare, per esempio. Ecco, sembra che viviamo in un'epoca di grande libertà di espressione. Improvvisazione. In realtà è un'epoca molto, molto, come posso dire, tradizionalista. Non viene perdonato niente, non viene perdonata la diversità, non viene perdonata la fragilità. Deve essere bello, deve avere successo, il successo degli altri ti viene sempre, continuamente spiattellato davanti. E allora questi ragazzi, giustamente, pure io, sviluppiamo un'ansia e la nostra autostima va a farsi benedire. Abbiamo la sensazione che qualunque cosa facciamo non basti mai e nonostante i risultati ottenuti non siamo mai felici di quello che abbiamo fatto. Che poi la felicità non è mai nei risultati, no? È una cosa dirompente quella che sto dicendo. La libertà dai risultati è il primo passo. Ho capito, ma questo appunto lo diceva Kant, ma è difficile da accettare che io riesca ad essere felice indipendentemente dai risultati. E con questa ansia a dover fare, a dover fare sempre di più, allora l'isolamento. L'isola. L'isola che poi è una metafora, appunto la metafora è l'ideale... Adattissima a Peter Pan, però tu non volevi tornare bambino, ma volevi crescere. Sì, sì, esatto. Volevo crescere, sono andato sull'isola in una condizione pietosa, pieno di ansie, con un ritorno del panico, non riuscivo a stare in equilibrio su un piede solo. E questa è la metafora? Perché questo equilibrio su un piede è l'equilibrio che cercavi nella vita? Ah, probabilmente sì. È vero, un libro pieno di simbologie che devono essere svelate. Ho iniziato a fare degli esercizi di equilibrio, tutte le mattine alle sette e mezza, per cercare di rimanere su un piede solo almeno per più di cinque secondi. E poi da mezzogiorno all'una correvo, facevo la corsa. Citavi Kant prima, è la regola che conta nella vita? Sì. Gli orari precisi? Sì, sì, lui è il filosofo di Conis, perché insomma potevano rimettere l'orologio guardandolo passare i miei bianchi. Ma ti ispiravi a questo? Avevi bisogno di sponde? Ma io ho sempre avuto comunque questo atteggiamento, questa maniacalità nella disciplina. Lo dico anche nel libro. Mi affido alla disciplina quando la fede mi abbandona. Cioè, ci sono dei momenti in cui noi siamo animati dal sogno. Allora possiamo spaccare tutto, ma non possiamo stare sempre sotto l'impeto di questa spinta energetica. Ci sono dei momenti di incubazione. Allora in questi momenti di incubazione io mi affido alla disciplina. Pam! Faccio sempre le stesse cose con tutto il rigore possibile. E questo è il momento degli esercizi di equilibrio. Non ti sei sentito soffocare dalla solitudine? Qualche volta fa paura? No. No. Perché veramente stavo messo male. E allora annotavo dopo ogni esercizio tutte le idee filosofiche che esso stesso mi poteva suggerire e dovendole fermare sulla carta perché erano veramente tante ho iniziato a scrivere. A scrivere e così... E così perché tra l'aria, la luce, la corsa l'equilibrio l'hai trovato. No. Un po' sì. Un po'. Quello perduto, perlomeno questo. Ed non a caso ne è nato un album che si chiama Equilibrium che è doppio. Ci sei tu da solo. Ci sei tu con l'Orchestra Sinfonica Italiana poi ci sei tu che dirigi l'Orchestra Sinfonica Italiana e suona? Jeffrey Beagle è un grandissimo pianista. E come l'hai incontrato e chi è? Dai, spiegaci. Jeffrey Beagle è un grande pianista virtuoso americano maturo che è anche uno specialista di Liszt e Rachmaninoff per cui è veramente bravissimo. Ma ha suonato anche con... Ha suonato anche con Kate Emerson. Ha collaborato con Leonard Bernstein. Una grande personalità. Lui insegna anche a Brooklyn College of Music di New York. Insegna pianoforte e un giorno un suo studente gli ha lasciato sull'eggio del pianoforte lo spartito di una mia composizione. Lui, ascoltandola, si è innamorato delle mie note. Dopo una settimana mi ha scritto una mail bellissima chiedendomi se io potessi mai scrivere un brano per lui dedicato a lui. Lui pensava probabilmente un brano per pianoforte e invece io ho perso l'equilibrio. Mi sono sbilanciato e ho composto per lui un intero concerto per pianoforte e orchestra mentre in movimenti che poi lui ha eseguito in prima assoluta in America lo scorso anno. E questo equilibrio lo porti in giro innanzitutto in Giappone e in Cina che non è così normale. In genere sono altre le sponde dei nostri campioni della musica. L'Oriente è un mondo che ti appartiene, credo. La ricerca della spiritualità. Non ci come uscire noi, direi. Forse in una vita passata sono stato giapponese. E poi questo equilibrio è anche nel titolo di questo libro e adesso lo svegliamo. L'equilibrio della lucertola che sembra, uno dice vabbè, il solito Giovanni Allevi che fa le cose strane ma se tu avessi scritto dialogo di un musicista e una lucertola avremmo immediatamente tutti pensato al tuo Leopardi che sicuramente c'è dietro e che sicuramente ti è affine anche per carattere perché questo è un dialogo filosofico, no? Sì, è un dialogo filosofico con una lucertola che ho incontrato durante quell'ora di corsa. Perché la lucertola? Perché l'ho incontrata. Era lì, era lì. Ma perché proprio questo animale? Oh, me lo sono chiesto anche io. L'ho capito dopo aver scritto il libro. Io con la lucertola ingaggio dei dialoghi spiazzanti. Io manifesto, io la vedo durante la corsa. Ok. Poi inizio a parlarci. E vi date del lei. Ci diamo del lei. Come Leopardi insegna. E la lucertola diventa il mio guru. Il mio guru è che... Io manifesto a lei le mie inquietudini, le mie paure, le mie fragilità e lei mi dà delle risposte spiazzanti perché non mi dice che sto sbagliando e che sono sbagliato. Mi fa riflettere sul fatto che la mia paura, la mia fragilità è inserita all'interno di un contesto molto più vasto, molto più universale che la comprende. Mi sento compreso finalmente. Ma le risposte della lucertola di chi sono? Sono di Giovanni Allevi o di chi altro? L'ho scritto io il libro. Però probabilmente... Io ho la sensazione che questo libro si sia scritto da solo. Tra l'altro è stato un gesto proprio... Poi non è il tuo primo libro. No, è il quinto libro ma è una sorta di romanzo. È il primo libro che ha una fortissima connotazione filosofica. Parli molto di te, è un romanzo di formazione però appunto è anche una riflessione su tanti aspetti del nostro vivere oggi che separano, disgregano la persona, no? Esatto. Ma non con l'obiettivo di rimetterla insieme. Non con l'obiettivo di ritrovare un equilibrio ma di far pace con il nostro squilibrio. Ecco, perché il nostro squilibrio è il vero motore non solo della nostra anima ma di tutto quanto l'universo. Cioè come dice lo stesso Louis Pasteur, il grande batteriologo, tutto il mondo, tutta la vita comunque nasce da da una asimmetria, da uno squilibrio. Ma lo stesso Nietzsche, il mondo come volontà e rappresentazione, ogni cosa è animata da una volontà, anche un bicchiere che noi vediamo inanimato, che crediamo che sia inanimato. In realtà dentro di sé cova un'energia, un senso di risolto che deve trovare una finalità. A furia di farti domande, non hai bisogno anche di qualche risposta? Allora, la lucertola effettivamente me la dà. Sì, però le risposte poi bisogna incontrarle nella vita, no? Non soltanto averle nella mente. Sì, sì. Bisogna passare però attraverso le difficoltà, attraverso la sofferenza. E allora ci si accorge che queste difficoltà in realtà sono delle porte che ci permettono una comprensione e una consapevolezza molto più... Quello che dicono certi preti, e ci sembra così assurdo e lontano che la sofferenza aiuta, no? Non diciamo, ma per carità facciamone a meno. Allora io, sempre nel libro, parlo di alcune persone che io riconosco nella vita quotidiana, che hanno il bagliore negli occhi, che sono quelle persone che, pur essendo passate attraverso la sofferenza, non hanno indurito il proprio cuore, ma anzi, riescono ad accettare la propria fragilità e riconoscerla negli altri. Ecco, queste persone sono una benedizione. Io quando le incontro, veramente ho la possibilità di, finalmente di respirare, di sentirmi compreso. Si riconoscono, basta vederle negli occhi. Qualcuna te la sei andata a cercare, no? Penso ai bambini, per esempio. Si. Di posti sperduti, che cerchi anche di sostenere, no? Si. Ma non è per sentirsi migliore, più buono, per sentirti a posto con la coscienza? È un bisogno di... No, io ho bisogno di imparare dai bambini. Ho bisogno di imparare dai bimbi, perché loro hanno conservato un rapporto magico con il mondo. Hanno una concezione animistica del mondo. Loro parlano con gli oggetti. Loro non sono schiavi di un ruolo. Loro giocano a poterne assumere innumerevoli. E allora, ma invece noi che cos'è? Siamo irrigititi dentro un ruolo, pensiamo che tutta la realtà che abbiamo intorno sia finita lì? Che tutto sia già... Almeno parlo per me, eh? Parlo per me. Ho questa paura. Allora, probabilmente recuperando un rapporto, osservando i bambini e recuperando il rapporto con il bambino che noi stessi siamo stati, forse andiamo a ritrovare la nostra felicità. Pascoli, che tuttavia non era una persona felice. Senti, Giovanni, tu hai scritto anche musica sacra. Sì. Chi è Dio per te? Ci ha creato un bel da fare. Ha creato tutto. Ha creato tutto. Ma ha creato un mondo che vive di contraddizioni. Probabilmente che è vivo. Ha creato un essere umano che si interroga, si interpella. O anche no. O anche no, ok. Alcuni sì. Che è molto buono ma è anche molto cattivo. Alcuni sì. È veramente incredibile come si è riuscita a fare tutto questo. No, sai perché te lo chiedo? Perché comunque è una delle domande che tutti ci facciamo. Possiamo tacitarla, ma in realtà è il significato della vita che tu cercavi, non l'equilibrio. E quindi mi domando se Dio e il significato della vita, il senso della vita vanno insieme. Il senso, assolutamente sì. Io credo che questo lavoro che ho fatto sia entriso in una grande spiritualità. Almeno è quello che ho capito rileggendolo. Più nelle pagine o più nella musica? Visto che l'equilibrio c'è in entrambi. Nella musica, la musica è spiritualità già di per sé. Però nelle pagine è stato anche un po' più difficile da catturare. Per te è più difficile scrivere. È più difficile da catturare. Però assolutamente, io non ho dubbi. C'è il canto bellissimo che alla fine della critica della ragion pura si chiede ma allora, ma esiste? Lui stesso si chiede ma esiste Dio? E dà una risposta bellissima, dice senza dubbio. Bello detto dal padre dell'illuminismo, del razionalismo. Ecco, io credo che noi stiamo vivendo un'epoca di grande spiritualità e che il senso del mistero, ecco, tu mi hai chiesto che cos'è Dio. Per me è il senso del mistero. Il mistero è ciò che non è detto, ciò che non è spiegabile. E in questo mondo dove tutto sembra già spiegato, ecco che si apre finalmente una porta all'ignoto. E tutto ciò mi dà un grande sollievo, sinceramente. E questo sguardo che è dell'ultimo orizzonte, guarda e sclude. Guarda e sclude. Senti Giovanni, tu la vedi la mano di Dio nei talenti che hai nel tuo cammino, nella strada che hai fatto, nelle prove che hai vissuto? No, veramente, umilmente, non ce la faccio a pensare in questo. No, nel senso che tu potresti, cioè va bene, sei bravo e hai un talento, è un dono anche. Nel senso che la senti come responsabilità anche. Io la vedo in altri, ecco, la vedo in altri, in quelle persone illuminate. Ma in te no. Ma io sono totalmente arrovellato. Ma non ti vuoi un po' bene? E' molto difficile perché ho l'attitudine a colpevolizzarmi di tutto. Ecco, però è così. Cioè, quando tu riesci a tirar fuori emozione, quando riesci a commuovere o a far sorridere o a far pensare, cioè è un dono pazzesco questo. Eh, ti ringrazio. No? Sono stato portato a colpevolizzarmi per questo. Da tutta una serie di vicissitudini, anche gli stessi critici, ecco, davanti alla bellezza della musica, così. Però negli altri lo vedo, ma non sono altre persone straordinarie, eccezionali, chissà cosa. Ti ho detto, basta veramente un bagliore negli occhi, oppure un bambino che sta giocando. Io capisco, immediatamente percepisco qualcosa di altro, di meraviglioso. Però tu sei un musicista, un compositore e un pianista. E ognuno fa il suo. Va bene. No? Cioè, il pezzettino che ti è dato, penso che sia una cosa importante, no? Conoscere il proprio posto e parlare così a tutti. Tu cosa vorresti fare? Qual è il tuo desiderio più grande? Il mio desiderio più grande è riuscire a vivere il presente svincolato da tutte le mie paure. Ecco, perché le mie paure, le ansie che vengono dal passato e le ansie che il futuro mi può riservare, mi impediscono una visione allargata, una visione misteriosa, una visione allargata del presente. L'incanto, ecco. Mi impediscono di riscoprire l'incanto che è nascosto tra le pieghe dell'esistenza politica. Pensi che sia un problema solo tuo? No, 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 è generalizzato. Soltanto che tu te ne rendi conto? E lo vivi forse un po' come un rovello, come uno slancio anche? Sì, perché mi dispiace sprecare un secondo prezioso della mia vita inquinandolo di preoccupazioni che poi comunque alla fine abbiamo e non è giusto. Perché veramente ogni secondo è un dono che ci viene dato. Poi una parentesi, ma non da poco, ti hanno chiesto ovviamente dopo il terremoto cosa si può chiedere dopo il terremoto o di parlare della guerra in Siria, visto che tu sostieni appunto i progetti Save the Children là. E sono domande che si devono fare, ma in realtà sono per tutti, non soltanto per quelli famosi. Ma davanti al dolore, al male, c'è questo equilibrio, cercare di non aver paura. Come si fa? Più che altro, no, 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 accettiamola. Allora, il grande insegnamento, sì, l'insegnamento sembra brutto. Comunque, quello che mi porta dall'esperienza del terremoto che ho vissuto in prima persona. Perché quella notte del 24 agosto dello scorso anno ero proprio ad Ascoli Piceno, a pochi chilometri dall'epicentro. E interi paesi che conosco benissimo, Arquata del Tronto, Amatrice, paesi dove io da ragazzino ho giocato, in quel minuto terribile sono stati cancellati, così insieme a centinaia di vite. Cosa ho capito da tutto questo? Che siamo fragili, siamo fragili, siamo veramente fragili. Allora, a questo punto, visto che siamo fragili, allora liberiamoci di tutto quello che è inutile. E infatti è stato tenero, non dico bello, ma dico è stato tenero, che nei giorni a seguire ci siamo ritrovati tutti stretti in un abbraccio di solidarietà. Anche tra i vicini di casa, per dire, no? Così. Sono crollati tutti i muri delle convenzioni, ci siamo ritrovati esseri umani, fragili, però vivi. E questo, secondo me, può essere un modo per affrontare la sofferenza, credo. Insieme? Sì. Grazie, mi regali, beh, mi regali, ne hai regalate tante, ma regalami tu la sigla finale di questo nostro dialogo. Scegli una tua composizione, un tuo brano, una cosa che possiamo ascoltare che rappresenta te adesso. E allora sicuramente l'adagio dal concerto per pianoforte e orchestra numero uno, che è contenuto nell'album Equilibrium, che abbiamo registrato con l'orchestra sinfonica italiana, e Jeffrey Beagle al pianoforte, io gliel'ho detto, secondo me, mentre lui l'ha eseguito con una tale dolcezza, era ispiratissimo e ci ha fatto questo regalo. Lo stiamo ascoltando. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.